In questo periodo l'amministratore delegato uscente della Formula 1, Russ Brown, è tipo sulla bocca di tutti, per diversi motivi. Innanzitutto perché 7 tifosi Ferrari su 10 sperano in un suo ritorno in rosso, come Team Principal al posto di Mattia Binotto. Sarebbe un bel colpo e, per quanto improbabile, sembrerebbe che Ferrari realmente ci abbia puntato ed è diventata un'opzione tipo come Federic Vasseur o Paul Embry. Questi due rimangono comunque in pole position rispetto all'ex Mercedes, ma non è di questo che parliamo oggi. Ne parleremo quando avremo più notizie ed è per questo che vi invito ad iscrivervi al canale. L'altro motivo per cui Ross sta facendo molto discutere di sé è per le dichiarazioni che ha rilasciato. E noi quindi analizzeremo oggi l'articolo di Jonathan Noble, che rimane comunque casamotosport.com, però è in Inghilterra. E qualche volta le notizie dobbiamo prenderle anche dall'estero, ragazzi. Quest'ultimo riporta che nei piani della Formula 1 ci sarebbe l'introduzione dell'aerodinamica attiva, a partire dal prossimo cambio regolamentare e quindi dal 2026. La motivazione ufficiale sarebbe quella di ottimizzare i consumi, portando in griglia auto in grado di avere configurazioni aerodinamiche diverse in base al punto della pista. E quindi rettilineo avere una monoposto più scarica, mentre in curva una monoposto più carica. Tutto questo in teoria per evitare sprechi, ma io un po' sorrido, ne vi spiego il perché. Mi sembra una mossa più atta a rallentare il leader della gara, in modo tale da evitare che questo prenda il largo, evitando così di ammazzare lo spettacolo. L'idea è in fase embrionale, quindi non si sa perfettamente qual è la mossa che vogliono fare. Però probabilmente si tratterà di un mezzo atto a sostituire il DRS, che però allo stesso tempo riesce a dare performance al pilota che sta dietro, alle vetture che inseguono, riducendo l'incidenza alare. Però, oltre al fatto che per gusto personale a me non piace, penso che rallentare il leader della gara sia in qualche modo dichiarare il fallimento del regolamento, perché non riesce a gestire il più veloce. Però anche qui qualcuno può dire che questa è la mia opinione. Vaffanculo, no. Il problema è che la Formula 1 ha preso una posizione ben chiara. Aumentare lo spettacolo. E può anche andar bene, li capisco, faccio lo youtuber, quindi insomma, la loro linea la posso capire perfettamente. E lo stanno facendo in tantissimi modi. Aggiungendo circuiti più glamour, modernizzando le monoposto e anche portando più sprint race, le tanto amate sprint race. O almeno io le amo da impazzire, guardate. Ed è per questo che ne hanno messe altre tre nella stagione 2023. Qual è il problema delle sprint race adesso? Perché Donio le hai tirate in mezzo? Ipotizziamo per assurdo che le sei sprint race che vedremo nel 2023 piacciono al pubblico. E che quindi questa scelta viene rinnovata. Potremmo per il 2026 averne anche 12. Non lo escludo come scenario. Però facciamo finta che rimangono sei, ok? E in più aggiungiamoci l'aerodinamica attiva. Domanda. I team quando lavorano al setup? Ma se noi siamo abituati a vedere già tra FP1, 2 e 3 che i team arrivano in gara al limite e non pronti per affrontare quest'ultima. E tra l'altro con un setup fisso. Immaginate con più sprint race, con regime di parco chiuso che scatta subito. Un team che nell'FP1 deve guardare. Il passo per la gara veloce, il long run, il setup in rettilineo e il setup in curva. Oltre poi a tutte le problematiche che escono per quel weekend. Stiamo sempre ipotizzando che tutto vada perfetto e vada liscio come l'olio. Ma i problemi escono fuori perché stai guidando una Formula 1. Capite che non è fattibile perché ne viene a mancare la sicurezza. E sono tornato a rompervi le scatole con la sicurezza, sì lo so, me ne rendo conto. Però ragazzi, ci sono anche altri problemi. Tipo la problematica dei costi. Oppure il personale in sovraccarico perché sono tante gare, sono 24. E già quest'anno nel 2022 era un tema. Ma insomma, introdurre novità, senza un piano ben preciso non è proprio la cosa più giusta da fare. Anzi, personalmente penso che non sia fattibile. Per fortuna però, Ross Brown un po' ci tranquillizza. Affermando ad Autosport che non è detto che questa verrà introdotta. Non è certo che ci sarà. Però poi allo stesso tempo ti dice anche tutti i dettagli. Spiegandoti proprio che quando un'auto si avvicina all'altra monoposto, quella davanti perde deportanza, mentre quella dietro ne guadagna. Non lo so, eh, io non voglio neanche sembrare arrogante, perché poi a volte mi riconosco pesante nel parlare di queste cose. Però a questo punto perché non facciamo decidere alla direzione gara chi deve vincere le gare? Rallenti lui e velocizzi l'altro. È un po' brutto. Boh, non lo so, magari è solo una mia impressione. Ah, e comunque le unghie viola si fanno cagare. Solo che per amore questo è altro, ragazzi, lasciate correre. Fate finta di nulla. Anzi, iscrivetevi per solidarietà. Ho ammazzato un attimo l'atmosfera, altrimenti diventava troppo pesante il video, me la rendo conto. Alla fine non c'è nulla di certo. Però, ritornando a noi, quindi l'idea sarebbe quella di un DRS al contrario. In quanto appunto andrebbe a ridurre il carico aerodinamico di una monoposto. Deve essere valutato attentamente. E bisogna anche capire questo cosa implica. Anche perché il problema porpoising non è risolto. Attualmente la questione è in mano alla FIA. Però anche questo in realtà è un tema. Perché in Galeria del Vento i team non possono simulare per bene l'effetto del pompaggio. Questo perché si verifica a velocità che non riescono a simulare. E quindi, prego il Dio di no. Però potrebbe essere un problema anche nel 2023. E verrebbe tirato fuori soltanto in caso di può agevolare qualcuno o qualcun altro. L'abbiamo visto nella prima parte di stagione. Mercedes ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. Per guadagnarne performance nella seconda. Insomma, le problematiche ci sono. Fare allarmismi non serve a niente. È presto. È un'idea che rimane comunque interessante. Però prendere scelte adesso, al momento, non mi sembra la cosa giusta. Aspettiamo i dati del 2023. Esperando che questi siano più stabili e che il problema pompaggio non esista. E magari Ross, anziché pensare a cose che non ti riguardano più. In quanto non sei più l'amministratore delegato della Formula 1. Valuta se diventare Team Principal Ferrari. Perché un uomo politicamente forte a Maranello serve. Al resto ci pensano gli altri. Adesso iscriviti, attiva la campanellina, seguimi sui social, Instagram in particolare, poi c'è anche Twitter e il resto lo uso un po' meno. Da Tonio era tutto. Passo. E chiudo.